L'una praticamente imbattibile in casa, l'altra zoppicante in trasferta. Se lo Spezia, prossimo avversario dei Lupi, infatti nel 2017 non è stata mai battuta in casa, l'Avellino dalla sua, proprio nel nuovo anno, è riuscita ad incassare la prima vittoria esterna della sua stagione. Due statistiche che, numeri alla mano, sembrano favorire la squadra di Di Carlo, che in 15 gare interne ha conquistato ben 8 vittorie, 5 pareggi ed appena 2 sconfitte. La prima disfatta è arrivata il 9 ottobre dello scorso anno per mano del Carpi per 1-0, mentre la seconda è maturata in maniera più rogambolesca sotto i colpi del Verona per 1-4. Nonostante ciò, però, bisogna dire che il repertorio tra le muramiche del prossimo avversario dei Biancoverdi resta assolutamente positivo. Nelle ultime 5 uscite sono state 3 le vittorie e 2 i pareggi, numeri importanti che danno l'idea della solidità della compagine Ligure. Dalla sua, Lavellino è forte dei nuovi risultati utili consecutivi messi a segno prima della disfatta di sabato contro il Perugia. Detto ciò, resta complesso l'approccio della squadra di Novellino con le gare esterne. In 14 sfide giocate fuori dalle muramiche del Partenio Lombardi, infatti, sono state solo due le vittorie conquistate, una ai danni del Brescia, l'altra nella sfida contro il Cittadella. Entrambe sono arrivate nel 2017 5 i pareggi e ben 7 le sconfitte. Nelle ultime 5 uscite in esterna sono arrivate due vittorie e tre pareggi, che descrivono un bottino decisamente positivo. Gara interessante, dunque, anche per capire chi macchierà per primo il proprio personale bilancio positivo rispetto alle ultime 5 partite. Un pareggio, verrebbe da dire, accontenterebbe tutti. Peccato che entrambe, e questo ce l'hanno in comune, sono uscite sconfitte dall'ultima sfida giocata. Segno che nessuno si accontenterà di un pallido punticino.